I corpi di tre uomini sono stati trovati in una Range Rover nei pressi di una fattoria Reddendon, nell'Essex. Era la fine di un'epoca, ma prima degli omicidi, delle torture, dei pestaggi e dell'ecstasy, prima di tutto questo c'era il calcio. Asi! 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 Stendi! Odunque andiamo! Odunque andiamo! Noi dominiamo! Noi dominiamo! Levatica il scherzo! Ci sta implorando di risparmiare i tuoi amici. Si faranno molto male. Hanno rubato la nostra eroina. Io non imploro nessuno. Che ne diresti se ti offrissi un buon affare? Un bel po' di soldi. Niente male, vero? Sono d'accordo. Volevo sentirmi per sempre così. Lo volevamo tutti. No, no, no No, 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 no!